Susa, Torino. I finanzieri del comando provinciale di Torino hanno sequestrato a Susa circa 100.000 loombants, i famosi bacceletti di gomma colorati fai-date, venduti in tutto il mondo. I finanzieri della compagnia di Susa hanno individuato i bacceletti sui banchi di tre commercianti ambulanti in un mercato rionale. Sono stati sequestrati anche altri articoli che non riportavano il marchio CEO, in alcuni casi, questo non era conforme alla normativa, si tratta di oltre 200 giocattoli e 2300 prodotti tra accessori di telefonia, articoli di bigiotteria e prodotti elettrici commercializzati in violazione a codice del consumo in quanto privi di regolari etichette in lingua italiana. E delle note informative destinate ai consumatori, contenenti i dati relativi al paese d'origine delle merci, al produttore, all'importatore nonché le istruzioni dei prodotti in sicurezza, gli interventi delle fiamme gialle si sono conclusi con il sequestro amministrativo degli articoli illegalmente commercializzati e l'irrogazione di sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro nei confronti dei titolari delle ditte controllate, che sono stati altresì segnalati alla Camera di Commercio di Torino per l'applicazione delle sanzioni accessorie, che possono prevedere la confisca e la successiva distruzione dei prodotti.